allora questo è il cuore del differenziale autobloccante a lamelle è comunque un differenziale normalissimo noi lo facciamo scorrere davanti indietro vedete che non succede niente il livello di espansione delle flange rimane tutto tutto fermo quando lavora differenziale ok allora se noi dobbiamo affrontare una curva mettiamo caso che per affrontare una curva ci vadano 100 giri di corona ok del differenziale la corona è collegata direttamente a questa parte del differenziale se noi dobbiamo appunto percorrere questa curva e per percorrere questa curva ci vanno 100 giri di corona a seconda dell'ampiezza della curva del raggio della curva la ruota interna e la ruota esterna in pratica avranno faranno dei giri diversi giustamente la ruota interna ne farà meno la ruota esterna ne farà di più allora differenziale serve a questo a questo allora praticamente noi percorriamo la nostra curva mettiamo caso che per fare con la nostra curva la ruota interna faccia 80 giri no i giri che la ruota interna non fa rispetto ai 100 giri della corona per cui 80 80 la ruota interna 100 giri la nostra corona praticamente i giri che non vengono effettuati dalla ruota interna vengono sommati ai giri della ruota esterna per cui se io qua ne faccio 80 automaticamente il differenziale serve da trasferirmi la mancanza di giri che ho fatto qua rispetto ai 100 giri della corona nella ruota esterna per cui 120 giri e questo è praticamente il discorso di un differenziale normalissimo come potete potete vedere non c'è espansione delle flange quando lavora differenziale e per cui fin qua ci siamo adesso volevo far vedere cosa capita quando invece si è in twist per esempio un attimo solo che io sono da solo ok mettiamo il caso di essere in twist ok per cui ruota ferma a terra ruota con con teoricamente contrazione ferma a terra ruota all'aria che invece si mette a girare ok per cui non rimaniamo fermi qua è sempre collegata la nostra corona che prende il moto dal motore no la nostra corona gira e non solo la nostra ruota alta la terra che non tocca terra gira liberamente senza senza nessun problema ok però nel momento in cui adesso vediamo di mettere tutto a pacchetto nel momento in cui io in pratica freno o tento di frenare o applico una forza frenante sulla ruota che gira vuoto cosa succede che automaticamente se io tendo a frenare la ruota che gira vuoto la corona è obbligata a continuare a girare perché prende il motore a motore di conseguenza il nostro complesso dell'autoblocante si espande e va a frenare la ruota che pattina ok adesso vi faccio vedere perché succede questo togliendo vi una tazza allora ripeto quando si quando si è in twist la nostra corona trasmette il moto alle nostre tazze perché sono collegate alla scatola del differenziale per cui la corona e come potete vedere con il semi asse fermo per cui la ruota ferma a terra succede questo il differenziale lavora tranquillamente ok perché quando noi tocchiamo il freno lo attiviamo differenziale per questo motivo qua se noi attiviamo una forza frenante per cui adesso un differenziale scorre se io freno di colpo cosa succede che tutto il pacco ingrenaggi tende a fermarsi perché la ruota a terra è già ferma per i fatti suoi io applico una forza frenante sulla ruota che gira tende a frenare praticamente tutto il complesso degli ingrenaggi però la nostra corona la nostra corona che prende il moto dalla macchina continua a girare di conseguenza avviene appunto la risalita dei perni dei satelliti questi qua verso verso le flange allargandole avete capito questo succede quando tocchiamo il freno per per far per far bloccare il nostro il nostro differenziale poi ovviamente ci saranno tutte le nostre frizioni che più ce ne sono e più diventerà facile riuscire a far ruotare anche la ruota anche a terra però capita questo per cui se non tocchiamo niente se non ci sono la tazza che che servono appunto a dare quel po di freno che serve per attirare per attivare l'altro bloccante ok se non c'è niente di niente che c'è che ci impedisce di far girare la nostra ruota a terra sollevata il differenziale si si comporta come un bellissimo differenziale per cui non rimaniamo piantati non ci muoviamo ok quando noi per qualche motivo vogliamo togliersi dall'impaccio per cui freniamo che succede succede questo ripeto noi tendiamo a bloccare tutto il pacco degli ingranaggi no il nostro motore continua a girare e di conseguenza ci sposta le due flange le due tazze sia quella sotto che quella che ho tolto verso l'esterno no per cui andando a comprimendo coprire i pacchi dei dischi e per cui forzando diciamo così il il blocco ok questo è il motivo per cui se non si è attiva nel patinamento di una ruota quando si viaggia su asfalto anche con un lato bloccante non c'è l'espansione delle flange ma il nostro differenziale lavora tranquillamente ok per cui ripeto non 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 avviene nessun bloccaggio per cui non c'è il rischio di andarsi ammazzare come dicono i tanti ok nel momento in cui c'è appunto la necessità di uscire dall'impaccio per cui può essere appunto il twist basta frenare cioè la frenata serve appunto questo a bloccare il tutto il pacco degli ingranaggi per cui si limita la rotazione ovviamente la nostra corona continua a girare e avviene l'espansione l'espansione va a comprimere i nostri dischi è attivato bloccante avviene l'espansione